Il match più atteso della diciannovesima giornata del campionato Giovanissimi Elite va in scena a Via Norma, in campo, Savio e Urbetevere. I padroni di casa di Mister Bartoli si schierano con Del Giudice in porta, Pesarin, Salvatore, Galassini e Monaco in difesa, Muscariello, Iannoni, Scorzoni a centrocampo, Badalà, Martinelli e Santucci in attacco. Rispondono gli ospiti di Mister D'Andrea con Marchini tra i pali, Rossi, Quadrelli, Appetecchia, Cerri in difesa, Latteri, Califano, Cipelli a centrocampo, Orsili, dietro Nuzzo e Cannatelli. Il primo squillo è di marca Blues, dopo pochi secondi ci prova Martinelli con il sinistro, pallone telecomandato e facile preda di Marchini. È il decimo minuto quando il Savio passa in vantaggio, Scorzoni conclude da limite dell'area in diagonale, Marchini riesce a toccare ma sulla ribattuta si avventa Martinelli che in posizione regolare deposita in rete inspaccata, terzo centro in campionato per l'attaccante Blues. E al minuto dieci il Savio conduce già 1-0. La squadra di Bartoli insiste, qui ci prova Badalà che trova solamente l'esterno della rete. L'Urbetevere si fa vedere in avanti con la punizione di Califano smorzata dalla barriera che finisce docile tra le braccia di Del Giudice. Ancora Urbetevere in avanti con Califano dentro per Orsili, cross in mezzo, la difesa del Savio sventa la minaccia e poi l'azione sfuma. Troppo poco per l'Urbetevere che soffre le iniziative offensive del Savio, azione da manuale al minuto 30, Muscariello innesca Badalà sulla sinistra. Il pallone giunge quasi a memoria per il rimorchio di Martinelli che sciupa tutto. Da due passi l'attaccante Blues si rende ancora protagonista un minuto dopo ed è ancora una volta costretto a mangiarsi le mani. Con un colpo di testa fuori misura non riesce ad inquadrare la porta e spreca un'occasione ghiottissima. L'Urbetevere si fa amminacciosa al minuto 32 del Giudice e sbaglia il rinvio. Canatelli si avventa sulla corta respinta ma pressato calcio in modo sbilenco, poi sulla linea di porta, Salvatore arriva prima di Nuzzo e riesce a liberare l'area di rigore. In avvio di ripresa la punizione di Califano trova la risposta superlativa dell'estremo difensore Blues che si allunga e smanaccia. L'episodio che sposta completamente l'inerzia della contesa si materializza al dodicesimo. Quadrelli atterra Martinelli in area di rigore, l'arbitro non esita ad indicare il dischetto. Poi dagli 11 metri si presenta Salvatore che calcia all'angolino. Marchini intuisce ma non può nulla, è ancora una volta Salvatore a castigare i gialloglu come nella gara di andata. Stavolta il difensore centrale Blues porta il Savio sul 2-0. Al rientro a centrocampo delle due squadre il direttore di gara si avvicina minaccioso nei confronti di Quadrelli ed estrae il cartellino rosso costringendo quindi il difensore centrale dell'Urbe Tevere ad abbandonare il terreno di gioco e a lasciare la sua squadra in inferiorità numerica. I Blues ne approfittano e al diciassettesimo calano il Tris. Vadalà viene lanciato in profondità, spara addosso a Marchini, poi sulla ribattuta è bravo a mettere al centro dove c'è Spataro che gira in rete con il destro e insacca il pallone del 3-0 per il Savio. L'Urbe Tevere è all'occasione di accorciare le distanze al minuto 19, Orsili crossa sul secondo palo dalla sinistra ed è miracoloso del giudice a respingere con i piedi Il tapin da due passi di Cannatelli, il poker brusa, arriva al venticinquesimo Vadalà anticipa a Petecchia e con un tocco morbido, quasi una palombella, beffa Marchini e fa scendere definitivamente il sipario sul match, il Savio cala il poker con Vadalà alla quarta rete consecutiva in campionato. Fuochi e fiamme nel finale, anche se la sostanza non cambia, al 32esimo Cipelli trova un corridoio filtrante per Cannatelli che da posizione defilata trova prima il palo interno, poi la rete Sembra essere in fuorigioco, chiede Lumi al direttore di gara che poi convalida la rete L'Urbe Tevere quindi accorcia le distanze e va sul 4-1 Ma il Savio colpisce ancora, un minuto più tardi, sul traversone di Marrocco Si avventa Spataro che di prima intenzione trova l'angolino alle spalle di Marchini e può così festeggiare la sua personale doppietta È questa l'ultima emozione di una gara dominata dagli uomini di Mister Bartoli Il Savio consolida così la terza piazza del Girone Con un 5-1 secco per l'Urbe Tevere è un colpo da K.O.